Ok, buongiorno a tutti, iniziamo anche questo giovedì la parte di lezione online e visto l'argomento di questa settimana la dedicheremo ovviamente a approfondire un pochino e mettere in pratica le cose che abbiamo visto sulle liste. Io ho pensato di predisporre un esercizio un po' omnicomprensivo in cui usando delle liste si possono fare vari tipi di operazioni. Quindi vi propongo questo tipo di testo in cui c'è un programma, spero si lega bene, in Python che permette di gestire una rubrica di nomi, quindi immaginate l'elenco dei nomi dei vostri amici ad esempio. Per ora è una rubrica un po' monca nel senso che abbiamo solamente i nomi delle persone, in una vera rubrica dovremmo avere anche magari l'indirizzo o il numero di telefono o altre informazioni associate, ma per il momento non sappiamo ancora come fare. Concentriamoci sui nomi, un elenco di nomi e vogliamo fare un programmino dove un nome è una qualunque sequenza di lettere o spazi, quindi il nome non è solamente un nome fatto di sole lettere, ma potrebbe essere dei nomi composti, nome, cognome, eccetera, una qualunque sequenza a piacere. Allora, come funziona questo programma? Il programma deve permettere all'utente di inserire una serie di comandi attraverso un menu, quindi alla fine il programma dirà all'utente dimmi cosa vuoi fare e l'utente inserirà comandi diversi. Ciascun comando è costituito da un carattere iniziale che può essere seguito da un nome a seconda dei comandi. Quindi, ad esempio, se l'utente inserisce i spazio e poi un nome, sta chiedendo di inserire un nuovo nome nell'elenco. P, invece, è un comando che l'utente può inserire che richiede di stampare l'elenco dei nomi, il contenuto della rubrica. Poi abbiamo altri comandi, come ad esempio la i maiuscola che permette di inserire un gruppo di nomi in un comando solo, anziché fare tante i piccole una per volta. La d, il delete, che permette di cancellare un nome. La s, che è il sort per ordinare la rubrica in ordine alfabetico. Un 2, come comando, come comando accettiamo anche dei caratteri, in questo caso numerici, ricerca se ci sono dei nomi duplicati. Poi potresti c'è un comando più che prende un nome e lo sposta in avanti nella rubrica. Quindi magari il nome che è alla terza posizione lo sposto nella quarta, perché questa persona mi è meno simpatica, quindi lo sposto avanti nell'elenco dei nomi che ho. Meno mi porta un utente indietro, 0, stampa la prima lettera di ciascun nome e poi finalmente ho una X che termina il programma, che mi permette di uscire. Qui potremmo anche inventarci altri comandi, ho provato a mettere alcuni in modo da avere una panoramica delle varie operazioni che si possono fare e anche darmi lo spunto per andare poi a approfondire, andremo poi a approfondire sulle slide un paio di argomenti che avevamo lasciato in sospeso e che dobbiamo ancora guardare su operazioni possibili sulle liste, in particolare quando ho a che fare con liste di stringhe. Questo esercizio qui lavora chiaramente su una lista che contiene delle stringhe, a differenza degli esercizi di ieri dove avevamo prevalentemente delle liste di numeri con cui facevamo gli esercizi. Allora, possiamo provare a impostare questo programma, per il momento per semplicità di codice, ma anche per semplicità vostra, non voglio complicarvi troppo le cose, non usiamo le funzioni, usiamo un unico blocco di codice, poi magari quando diventerà più complicato sarebbe meglio preferire usare le funzioni, però non voglio complicare troppo le cose per il momento. Quindi questo programma che scheletro avrà? Avrà uno scheletro molto semplice che è quello essenzialmente della lettura del menu. Quindi il mio programma sarà una cosa del tipo print, inserisci un comando, beh potrò vedere, diciamo comando, posso usare direttamente una input, input, comando uguale, inserisci un comando e poi avrò un bel ciclo while, comando diverso da x. Perché x è il comando che fa uscire dal programma, faccio tante cose, dopodiché rileggerò il comando successivo. Quindi qua avrò interpreto al comando ed eseguilo. Questo è un po' il ciclo in cui il programma continuamente chiederà all'utente di inserire dei comandi e ovviamente i comandi dovranno essere uno di questi. Se non è nessuno di questi, chiaramente dovrò stampare un messaggio di errore, comando non vaido o comando non supportato. E il tipo di comando lo scopro guardando la prima lettera tra quelle inserite all'utente. Quindi posso andare a controllare, ad esempio, se il comando, la prima lettera del comando fosse una i, faccio certe cose. Altrimenti la prima lettera del comando di zero, quindi sempre la prima lettera potrebbe essere una p. E allora faccio altre cose. Oppure alla fine posso decidere, immaginiamo di aver fatto tutte le operazioni, ho un ultimo else in cui dico che un certo comando non è supportato. Print f comando di zero non supportato. Ok? Quindi questo è un pochino lo scheletro all'interno del quale lavoriamo. Avremo tanti else if, else if, else if, uno per ciascuno dei comandi che vogliamo supportare. Uno scheletro molto semplice, con le funzioni si potrebbe fare di meglio, ma per ora concentriamoci sul lavoro che dobbiamo fare sulle stringhe, sulle liste. Tutti questi comandi dovranno agire su quella che è la rubrica dei nomi, ovviamente, che è ciò che deve fare il programma. Allora questa rubrica dei nomi che cos'è? Deve contenere una serie di nomi, tanti nomi, ciascuno dei quali è una stringa, e quindi la posso rappresentare come una lista di stringhe. nome Aldo, Giovanni, Giacomo, eccetera. La rubrica dei nomi sarà una cosa di questo genere, una lista che contiene stringhe. Quindi tutti questi metodi, questi comandi che riceviamo dall'utente verranno eseguiti semplicemente andando a manipolare il contenuto di questa rubrica, che è una variabile che possiamo definire nel nostro programma. Chiaramente il valore iniziale di questa rubrica dovrà essere una lista vuota. Quindi questa per noi è una lista di stringhe che rappresenta il contenuto della rubrica. e quindi lavoriamo con questa unica lista. E proviamo ad implementare uno per volta questi comandi, partendo da quelli più semplici. Ad esempio, se il primo comando è i, inserisci, allora posso estrarre qual è il nome da inserire. Come lo strago il nome? Allora, il testo mi dice che un comando è fatto da i spazio il nome. Quindi il nome da inserire sarà la parte di stringa che inizia dal terzo carattere della stringa che inizia dal terzo carattere della stringa e fino in fondo. Quindi nel caso in cui il comando sia appunto inserisci, aldo, avremo i spazio a ldo. Il nome da inserire sarà la parte di comando che viene dopo la lettera e dopo lo spazio. E quindi in questo caso sarebbe comando due due punti. Estraggo una fetta del comando dal terzo carattere, quindi quello di indice due, in avanti. Ci hanno d'accordo fin qua? E questo nome che cos'è? È una stringa? È la stringa che vogliamo aggiungere alla nostra rubrica. Quindi noi possiamo a questo punto, parto dalla rubrica e ci aggiungo il nome. Fatto. Ho aggiunto un nuovo elemento alla rubrica, prima aveva zero elementi, poi ne avrà uno, poi ne avrà due, poi ne avrà tre. Ho aggiunto un elemento alla rubrica e a questo punto sono pronto ad accettare il prossimo comando. L'altro comando che implementiamo, implementiamolo subito perché così riusciamo a vedere qualcosa, è il comando print che mi permette di vedere che cosa ho inserito. In questo caso il comando print non ha nessun parametro, non ha bisogno di specificare il nome e allora semplicemente potrò stampare i nomi. Rubrica, due punti, rubrica. vediamo un po' se già questo funziona in versione extra minimale. Allora, eseguiamo il programma e sotto mi chiederà ovviamente inserirci un comando. Io posso provare a stampare la rubrica e quindi inserisco un print e mi farà vedere che la rubrica presumibilmente è vuota, infatti. Poi posso inserire Aldo, lui esegue il comando senza dire nulla perché se voglio stampare la rubrica devo fare un altro, un P e mi farà vedere che questa rubrica contiene questo nome. Giovanni farà la stessa cosa, posso inserire di nuovo Aldo e se stampo mi farà vedere Aldo, Giovanni Aldo, ovviamente non c'è nessuna, non sto facendo nessun controllo sul fatto che il nome esista già oppure no. Posso inserire i nomi composti, Pierre Francesco con lo spazio in mezzo. Tanto io quando vado a analizzare la stringa prenderò dal secondo carattere fino in fondo e non mi fermo allo spazio. Infatti in questo caso mi farà vedere che Aldo, Giovanni Aldo, ma c'è anche un Pierre Francesco che è un nome composto con lo spazio dentro e non mi crea problemi. Ok? Poi se scrivesse X chiaramente uscirai dal programma, sono gli unici comandi che abbiamo implementato finora, X, P e I. In realtà c'è qualche problemino, nel senso che se io per caso scrivesse invio il programma si blocca perché non ho controllato che il comando sia almeno di una lettera e quindi dovrei fare un controllo in più. Ma l'altra cosa che a me piace molto poco è stampare la rubrica in questo formato qui. È vero che non mi costa nulla perché faccio semplicemente un print della rubrica. Però per un utente normale vedere queste parentesi quadre e questi apici che iniziano e finiscono, dice ma cos'è Aldo, è un accento sulla O, non si capisce che cosa sia per una persona normale che non conosca la sintassi Python. Allora possiamo provare a pensare di migliorare un po' il comando print per fare in modo che stampi semplicemente un elenco dei nomi come lo stamperebbe una persona normale, cioè nome, virgola, altro nome, virgola, altro nome, eccetera, eccetera. Come potremmo fare? Quindi il compitino che mi do è di stampare non semplicemente la lista così nel formato nativo in cui Python stampa le liste, ma voglio stamparla diciamo come se fosse Aldo, virgola, Giovanni, Aldo, Pia Francesco, così. Ok? Allora come posso modificare la mia riga 31 in modo che stampi qualcosa simile a quello che c'è qua sotto? Un modo chiaramente è quello di fare un ciclo. Se non mi piace come lui stampa la rubrica in un'istruzione sola, farò un ciclo in cui mi stampo io uno per volta i singoli nomi nel formato che piace a me. Quindi stamperò i nomi uno dopo l'altro, quindi questa singola stampa non la uso e mi farò un ciclo for nome in rubrica. Ok? Cosa stamperò? Stamperò il singolo nome. Allora ricordiamoci cosa fa, for nome in rubrica va a analizzare tutte le posizioni di rubrica che ha una lista e per ciascuna posizione di questa lista mi stampa, cioè mi estrae il singolo nome. Quindi la prima volta rubrica conterrà il nome conterrà Aldo, la seconda volta Giovanni eccetera e io posso stampare il nome seguito da non vado a capo ma ci aggiungo una virgola e magari uno spazio, in modo che dopo aver stampato il primo nome non mi li stampo uno per uno con una singola print, però anziché andare a capo aggiungo una virgola dopo ciascun nome. Virgola è uno spazio per separarli, perché vedete che dopo che avevo scritto il nome Aldo io voglio virgola spazio e questa virgola spazio ce la devo mettere io. Ok? Un modo semplice è usare questo end per farlo. E poi ovviamente alla fine dovrò fare, dopo se l'ho stampato tutti, vai a capo, perché altrimenti con questo end che non contiene il fine linea rimarrei sempre sulla stessa riga e poi mi scriverebbe inserisci un comando ancora appiccicato all'ultimo nome. Allora se facciamo questo, allora facciamo un X al nostro programma, facciamo uscire, facciamo ripartire, quindi inseriamo Aldo, inseriamo Giovanni, inseriamo Giacomo e stampiamo la lista con la nuova versione del nostro comando print. Allora vabbè, ci siamo dimenticati di scrivere rubrica due punti davanti, quindi questo lo possiamo aggiungere. E effettivamente me lo scrivi in un formato un pochino più leggibile, tranne, scusate se sono pignolo, questa virgola in fondo che non c'entra nulla e non dovrei metterla. Giusto? Allora, questo mi piace, mi richiede una riga di programma in più, ma a questo punto posso controllare il formato che voglio. L'unico difetto è che l'ultimo nome viene stampato con una virgola di troppo. La risposta a quello che ci dice Andrea nella chat è esattamente quello che stiamo facendo. Quello che fa lui, semplicemente scrivendo print element, che io ho chiamato nome, va a capo, li scrive uno sotto l'altro, mentre io li voglio uno a fianco dell'altro separato da una virgola. Quindi la differenza, la difficoltà in più è avere questo formato di nomi uno a fianco dell'altro, quindi devo mettere un end che prevenga, impedisca di andare a capo e poi ci metto questo separatore. Quindi noi abbiamo due problemi, uno banale che mi sono implicato di scrivere rubrica e ce lo metto davanti, print, rubrica, due punti, spazio e poi end uguale niente. Non voglio nulla, ok? Perché poi a fianco ci devo scrivere il nome. Ma poi devo riuscire a evitare questa virgola finale. Come faccio a evitarla? Una volta che l'ho stampata non posso farci nulla, quindi devo proprio non stamparla. Cioè questa virgola deve essere stampata solo tra un nome e il nome successivo, ma non l'ultimo, non per l'ultimo elemento. Ok? Quindi dovremmo, Giulio ci suggerisce, possiamo stampare fino al penultimo elemento e poi stampare l'ultimo a parte. Questa è una possibilità. Quindi questo ciclo for mi stamperà tutti i nomi dal primo al penultimo e poi l'ultimo lo stampo a parte. Ok, però buona idea come faccio a farlo. Beh, l'ultimo lo stampo a parte sarà semplicemente una print di rubrica, come si chiama l'ultimo, meno uno. E poi posso fare il fine e ci metto un punto come finale. Ok, interessante anche l'idea di Mattia, la riprendiamo dopo. Finiamo questa versione, che segue il suggerimento di Giulio. Io stampo la rubrica con separatore virgola e poi a parte stampo l'ultimo elemento della rubrica, dove a questo punto ci metto un punto anziché anziché la virgola, per far vedere che ho fatto qualcosa di diverso. Potrei anche non mettere nulla qua. Ok? Ok. L'unica cosa che non ho ancora fatto è, attenzione, che se io facessi questo, fatemelo rifare. Quindi X, purtroppo devo inserire i nomi ogni volta. Esci. No, non esci, vedi che sono sul furbo. Ok. I. Ah, facciamo fare print I. Mi sembra solamente un nome, Aldo. Se faccio print adesso, mi stamperà Aldo Aldo, perché lui, il for di prima non l'abbiamo ancora modificato, quindi stampa tutti i nomi e poi stampa l'ultimo. Se adesso inserisco Giovanni e stampo, mi stamperà tutta la lista Aldo, Giovanni e anche Giovanni. Quindi dobbiamo sopprimere l'ultimo. Ok? Allora, basta che il mio, mia lista su cui vado a iterare, su questo for della Liga 33, sia tutti gli elementi tranne l'ultimo. Quindi, ad esempio, potremmo usare uno slice che esclude l'ultimo elemento. Due punti meno uno, è una cosa un po' strana da vedere, ma il primo elemento è zero. L'ultimo elemento dello slice è che cosa? L'ultimo, ricordate che l'indice di arrivo è sempre escluso. Quindi io metto come meno uno l'indice che rappresenta l'indice dell'ultimo elemento, questo è escluso, e quindi questo ciclo si ferma un giro prima della fine, un'iterazione prima della fine. Allora questo dovrebbe risolvermi il problema. Se io inserisco Aldo e lo stampo, vedete che mi stampa solamente Aldo, punto. Perché? Perché questo for di fatto non è stato mai eseguito. Perché adesso la rubrica contiene un elemento solo, ok? In questo slice andrà dall'elemento zero all'elemento zero escluso. Il primo elemento è l'elemento zero, l'ultimo elemento è l'elemento, il meno uno corrisponde all'elemento zero. L'indice è zero, c'è solo lui, c'è solo Aldo. Quindi è uno slice 0.2.0. E uno slice 0.0 contiene nessun elemento. Perché il punto di arrivo è già maggiore o uguale del punto di partenza. E visto che il punto di arrivo deve essere escluso, non c'è nessun valore. Quindi questo ciclo non viene mai fatto, questa print non viene mai fatta, e viene fatta solamente la print di riga 35, che è quella che stampa col punto. Se io invece adesso aggiungo anche un altro nome e lo stampo, avrò una lista che contiene due elementi e la slice dal primo elemento compreso all'ultimo escluso me ne dà uno solo, che ovviamente è il primo. Questo primo lo stampo con la virgola, poi esco dal ciclo for, e questo secondo lo stamperò col punto. A parte Giovanni, che ho sbagliato la lettera. Ok? Se io dovessi uscire, funziona anche se io facessi stamparsi una lista vuota? Non tanto, perché se faccio print della rubrica vuota mi dà un errore, perché io qua in qualche modo ho dato per scontato che esistesse almeno un elemento alla riga 35. Quindi magari facciamo un controllo prima, diciamo che se la lunghezza della list della rubrica è almeno 1, allora faccio questa roba, faccio tutto. Altrimenti dovrò scrivere semplicemente rubrica vuota. E quindi, per sapere se c'è almeno un nome, se abbiamo visto che con un nome funziona, con due funziona, anche con più di due funzionerà, però con zero nomi non funzionava, allora lo gestiamo come caso particolare. E questo funziona. Vediamo i vostri commenti per capire se abbiamo delle altre varianti. Mattia mi dice, invece della virgola possiamo mettere una variabile che è una virgola sempre l'eccezione dell'ultimo caso nel quale diventa uno spazio vuoto. Quindi, quello che propone, fatemi fare un copia e incolla, Mattia sarebbe qualcosa di questo genere. anziché mettere direttamente una virgola, ci metto un separatore, gli metto una variabile che chiamiamo, come la chiamiamo, virgola. E questa variabile, inizialmente, quindi devo inizializzare prima del ciclo, sarà una virgola. Quindi lui va, nell'idea di Mattia, fino al fondo, e quindi dice, io ho una command, ci metto non semplicemente una virgola, ma decido in base a una variabile. E fin qui sono d'accordissimo. Un pochino più complicato è capire, lui dice, a un certo punto, però, if, se ho l'ultimo nome, allora questa variabile diventa un spazio vuoto, ad esempio, o un punto, come avevo messo io prima. Ecco, questa if qua, però, non so come scriverla. Cioè, come faccio a sapere se sono l'ultimo nome? Se quello che ho appena... eh, no, scusate, quello che ho, lo devo mettere qua sopra. Se quello che sto per stampare è l'ultimo nome, allora, se sto per stampare l'ultimo nome, ci metterò un punto, anziché una virgola. Come faccio a saperlo? Visto che io ho solamente il nome? che cosa mi fa capire che il nome che sto stampando è l'ultimo? Se visto che sono dentro questo ciclo, è purtroppo... fate attenzione, perché avete sia Gioele che Lorenzo, stanno facendo un'ipotesi, stanno dicendo, guarda, come faccio a sapere se sono l'ultimo nome? So che sono l'ultimo nome nome, se il nome che sto per stampare è uguale all'ultimo nome della rubrica. Ok? Questo funziona? Domanda? Adesso fatemelo, scusami Mattia, riscrivo un attimo il tuo codice in un modo più semplice, perché in realtà non c'è bisogno di questa variabile. Basterà dire, guarda, se il nome è l'ultimo, allora stamperò il nome seguito da un punto, altrimenti stamperò il nome seguito dalla virgola. Lo semplifico solo un pochino per rendere più evidente il problema. Quindi questa variabile virgola in realtà non serve. Potrebbe essere utile, ma in questo caso, in fine esagerato, no? Però questa è un po' l'idea su cui stiamo lavorando, dove la condizione che stiamo scrivendo qua è, sto per stampare l'ultimo nome. Ok. La condizione con range ovviamente la vediamo tra un secondo, però volevo fermarmi su questo. Allora, secondo voi, questo funziona o no? analizzo tutti i nomi tra la rubrica, se per caso il nome che sto per stampare è proprio l'ultimo, gli aggiungo un punto, altrimenti ci aggiungo una virgola, cioè altrimenti vuol dire che il nome è un qualunque altro nome che non sia l'ultimo. Secondo voi funziona correttamente? Ha dei problemi? Allora, i problemi, Rebecca ha capito il problema ma non del tutto la soluzione, i problemi ci sono se compaiono due nomi uguali nella lista. Proviamo a vederlo. Commentiamo questa prima parte e proviamo a eseguire questa seconda. io ovviamente prima ho fatto l'esempio mettendo due volte lo stesso nome proprio per rimbeccarvi sulla problematica, no? Quindi io stampo la lista vuota, rubrica vuota, inserisco Aldo, stampa Aldo, funziona. Stiamo usando questo codice qua, questo nuovo con la if. Adesso inserisco Giovanni, stampa e mi stampa correttamente Aldo, Giovanni perché lui si accorge che sta per stampare Giovanni, Giovanni è proprio l'ultimo nome, in questo caso la rubrica ci mette un punto. Come dite voi nella chat, se io adesso aggiungessi di nuovo Aldo ci sarebbe un problema perché quando stampo lui tra Aldo e Giovanni dovrebbe mettere una virgola ma in realtà mette un punto, quindi il punto lo mette sia qua che lo mette là, perché il nome che sto per stampare, in questo caso il primo, è anche uguale all'ultimo perché ci sono nomi duplicati, quindi non nomi duplicati in generale ma nomi duplicati uguali all'ultimo elemento. Quindi questo, attenzione, non funziona. Quindi attenzione, non funziona se ci sono nomi duplicati, ma il modo più semplice per capire se sto per stampare l'ultimo elemento è quello di contargli questi elementi, quindi lavorare non sui valori, bensì sugli indici, come qualcuno di voi aveva detto prima, ma perché non usiamo i range? Così abbiamo l'indice e ci accorgiamo subito, fate mettere un commento a questo, lavoriamo subito sulla posizione del nome e in questo punto range, length, rubrica, quindi lavoriamo non sul nome, bensì sulla posizione. Allora, quando stampiamo, ovviamente il nome non esiste più e dovrò stampare rubrica di pos o rubrica di pos qua. Quindi mi vado a prendere nella rubrica, l'elemento è una posizione 0, posizione 1, posizione 2, eccetera, e il controllo che faccio però è un controllo sulla posizione e non sul valore. Quindi importa solamente se è nell'ultima posizione o no e non mi importa se è un valore che è unico oppure diverso dagli altri, eccetera. Quindi il pos uguale qual è l'ultima posizione? L'end rubrica meno 1. Ok? Allora questo anche dovrebbe funzionare, mi pare che funzioni, non ci vedo problemi, stampo quella vuota, va bene, inserisco Aldo, lo stampo, lo stampa correttamente, Giovanni, stampo, mette la virgola dopo Aldo e il punto dopo Giovanni, se inserisci di nuovo Aldo, che mi dava problemi prima, questa volta me lo stampa correttamente. Perché non gliene può fregare di meno di come si chiama la persona, semplicemente va a vedere se sto per stampare l'ultima posizione. Ok? Allora questo è un modo, ci sarebbe un altro modo quello di dire aggiungo la virgola davanti a tutti gli elementi tranne il primo, solo perché il primo è più facile da trovare che non l'ultimo, semplicemente per il fatto che l'indice vale zero, ma concettualmente è esattamente la stessa cosa. Quindi il primo blocco, questo qua, può funzionare, questo qui funziona, nel senso che io scorporo, diciamo così, tratto a parte l'ultimo elemento. Oppure anche questo funziona, anche qua, quindi ho un ciclo foro in cui tratto tutti gli elementi tranne l'ultimo e l'ultimo lo tratto a parte, cioè fuori del ciclo. Nel quest'altra parte, la terza opzione, anche va bene, ok, diciamo così, tratto diversamente l'elemento, se mi accorgo che è l'ultimo. Ok, questa operazione è un'operazione abbastanza frequente, no? Dover prendere una lista di stringhe e costruire un'unica stringa, che è quella che stiamo stampando qua, con un certo carattere di separazione, e dove purtroppo il carattere di separatori non sono tanti quanti sono gli elementi da stampare, ma sono uno in meno. Allora, proprio per questo in Python esiste una funzione, che è già stata anticipata nella chat da chi l'aveva scritto Lorenzo, che si chiama join. Allora, per esempio, è così. La funzione join fa esattamente questo lavoro. Si applica a una stringa che descrive il separatore da usare, quindi in questo caso il separatore è una virgola, punto join, è una cosa un po' strana, perché applichiamo un metodo a una stringa che quasi sempre non è un nome di una variabile, è una stringa costante, ma a lui non importa, è sempre una stringa, quindi le stringhe lavorano, e questo metodo come parametro ha il nome di una lista di stringhe, non possiamo mettere una lista di interi, se non sarebbe cosa farsene. Quindi la sintassi è separatore, punto join, lista di stringhe. Questo metodo fa esattamente ciò che abbiamo fatto prima, cioè prende i vari elementi della stringa e li concatena in un'unica stringa, scusate, prende i vari elementi della lista di stringhe e concatena i vari pezzettini di stringhe tra di loro, mettendo tra uno e l'altro la sequenza di caratteri separatori che scegliamo noi qua dentro, qua in mezzo. Quindi nel nostro esempio possiamo usare questa funzione join, quindi terza possibilità, che è quella più semplice in questo caso, di dire che voglio stampare che cosa? La mia lista con i nomi concatenati, però separati da join, separati da virgola e spazio, rubrica. Quindi qua scriverò stampa, mi creo una stringa, che adesso tra un attimo stampo, quindi printf stampare, poi ci metto ancora un punto in fondo, fuori dalla variabile, così ce l'abbiamo esattamente come era prima, questa stringa l'ho costruita facendo un join, quindi una concatenazione con carattere di separazione dei vari nomi della rubrica. E qui ovviamente funziona esattamente nello stesso modo, proviamo a rieseguirlo, cosa è successo qua? Inserisci un comando, print, rubrica vuota, inserisco un nome, print, me lo stampa, c'era un nome solo, la join ha visto una lista con un nome solo, dice ok, se c'è un nome solo, la join è uguale al nome stesso. Vediamo nella console, se io faccio virgola, punto join di Aldo, cosa ho fatto? Scusate, non Aldo, devo mettere una lista di stringhe la cui prima stringa è Aldo, mi istituisce esattamente solamente il primo elemento, senza nessun separatore, se invece passassi una lista che contiene due nomi, Aldo e Giovanni, mi istituisce un'unica stringa in cui due nomi sono separati dalla virgola, ma se non volessi la virgola, volessi un altro separatore, che ne so, tre asterischi, funzionerebbe esattamente nello stesso modo. Se volessi per assurdo avere dei nomi tutti appiccicati, senza nessuna separazione, basterà applicare il metodo join alla stringa vuota, quindi a volte avrei una stringa unica che concatena tutti i nomi, e quindi in questo caso avrei Aldo e Giovanni senza nessun separatore in mezzo, e così via. Quindi questo è ciò che fa la nostra join, con un nome solo, mi istituisce quel nome lì, se ce ne sono due, inserisci Giovanni, me li concatena, ma in mezzo ci infila sempre questa virgola, e automaticamente non mette nulla al fondo, quindi non mi crea questo problema. Quindi questa è la funzione che se vogliamo possiamo usare, per convertire una lista di stringhe in un'unica stringa, con una carattere, una sequenza di caratteri, usata come separatore tra una voce e l'altra di questa stringa. Ovviamente, anche se non sapevamo che esisteva la funzione, che esistesse la funzione join, il problema l'avremmo comunque saputo risolvere. Con la join scriviamo una riga di codice, noi prima ne avevamo scritte 3, vabbè ma non siamo morti, ecco di fatica. Ok, quindi direi sulla print siamo a posto, io andrei solamente a controllare prima, scusate, prima di andare avanti a implementare gli altri comandi, vorrei solo fare un controllo sul comando, quindi se la lunghezza di comando è maggiore o uguale 1, perché altrimenti rischio se l'utente inserisce la stringa vuota di bloccare il programma. Se la lunghezza del comando è, facciamo lo contrario, se fosse minore di 1, do un messaggio d'errore, comando troppo breve, e poi altrimenti vado avanti con l'elsi. Questo è un po' un riflesso che dovremmo acquisire, se io vedo comando di 0, quindi prendo il primo carattere, campanello d'allarme, ma sono sicuro che il primo carattere esista? Sono sicuro che la stringa comando abbia almeno un carattere dentro, perché altrimenti quando scrivo comando di 0 il programma mi dà un errore di indice fuori dal range permesso. Quindi lo controlliamo prima in modo di essere sicuri che quando arrivo qui la stringa comando contiene almeno un carattere, e poi vado a vedere quale carattere sia. Ok? Passiamo al comando successivo, il comando successivo è inserisci una serie di nomi. Kumari, se invece l'utente inserisce prima uno spazio e poi il carattere i, buona domanda, non viene riconosciuto come comando, in questo caso. Per come viene fatto il programma, il comando viene considerato solo se l'effettiva prima lettera è una i. Quindi se io qua scrivessi spazio i e poi un certo nome, mi dici che il comando è non supportato perché lui pensa che il comando sia lo spazio. È una domanda legittima, voi potreste dire sì, però magari lo spazio mi scappa, non voglio che sia così. Vorrei eventualmente che se ci fosse uno spazio all'inizio venisse ignorato e quindi lavorassi partendo dal primo carattere reale. Questo è anche facile da fare perché esiste ad esempio una funzione, forse l'abbiamo vista sulle stringhe, che si chiama strip. La funzione strip prende una stringa e restituisce la stessa stringa a cui sono stati tolti gli spazi all'inizio e alla fine, non quelli in mezzo ma solo quelli all'inizio e alla fine. Quindi noi potremmo decidere, forse è anche una buona idea, di dire il comando che ottengo, elimino gli spazi iniziali finali. Elimina spazi iniziali finali. E così se anche ci fosse uno spazio davanti l'ho tolto e via. Questo è il modo più semplice, tolgo lo spazio. L'altro modo più complicato sarebbe farmi un piccolo ciclo for che va a vedere se ci sono degli spazi, vado avanti e quindi non prendo comando di 0 ma prendo comando di i, dove i sarà la prima posizione in cui non ci sono spazi. Ma è inutilmente più complicato. Ovviamente questa strip la vado a ripetere anche sotto, sotto sotto in fondo dove c'è la input per ricominciare il ciclo. Allora questo, se esco da questo programma e lo riavvio, lo riavvio, posso fare i aldo, posso fare spazi i, Giuseppe, stampo e ovviamente questo comando è stato preso anche se aveva degli spazi davanti. Ok. Allora passiamo al comando successivo, se non ci sono altri dubbi su questi, che era appunto l'inserimento di nomi multipli. Allora aggiungiamo un'altra else if da qualche parte, qua prima dell'else, elif, no, questo else, elif, comando di 0, uguale i maiuscola. Allora in questo caso avrò una sequenza di nomi, mi dice il testo separati da virgola senza spazi in mezzo, vabbè poi lo vediamo, nome, virgola nome, virgola nome, quindi con un solo comando posso inserire Aldo, Giovanni e Giacomo insieme. Quindi avrò la sequenza di nomi, la posso estrarre come prima, cioè la parte del comando dal carattere 0, 1, no, 2 in avanti e adesso che dovrò fare? Dovrò cercare all'interno della sequenza di nomi, cerca le virgole e separa le stringhe. Questo cosa vuol dire? Non è banalissimo da scrivere, non è semplicissimo da scrivere, vuol dire che io devo andare nella stringa a cercare la prima posizione della virgola, può esserci o non esserci, perché può darsi che la stringa contenga un nome solo, se contiene un nome solo allora l'aggiungo, se invece non contiene, contiene almeno una virgola, allora devo trovare la posizione della virgola e prendere la sottostringa che precede la virgola, aggiungere questa e poi cancellare dalla stringa la virgola e tutto il resto. Ok? E poi iterare così via, nel senso che se io avessi appunto la sequenza di nomi che è Aldo Giovanni Giacomo, io come prima cosa cerco se c'è la virgola, la virgola c'è, sì, dov'è? È in posizione 0, 1, 2, 3, 4. Allora dovrei trovare che la posizione della virgola è 4 e quindi dovrei in certo senso inserire il nome, sequenza di nomi dal carattere 0 al carattere 4 e poi sostituisci, cioè accorcia, cancella la parte iniziale della stringa e quindi dovrei fare qualcosa come sequenza nomi uguale sequenza nomi da 5 in avanti. Questa posizione 4 la posso ottenere ad esempio come sequenza nomi, punto index del carattere virgola. Posso iterare in questo modo. Ok? Quindi cosa faccio? Prendo la sequenza nomi, verifico se c'è una virgola al suo interno con index oppure find, queste sono funzioni normali sulle stringhe, le conoscevamo già. Ho trovato la posizione 4 in cui c'è la virgola. Allora a questo punto inserisci nella rubrica questa sequenza nome, la parte di stringa che precede la posizione della virgola e poi sostituisco alla stringa una sua versione in cui ho cancellato la prima parte iniziale e poi itero tutto questo ciclo fino a quando trovo delle virgole. Quando non ne trovo più mi fermo, ciò che è rimasto è rimasto solamente l'ultimo nome e allora aggiungerò quello. Ok? Quindi questo se lo volete lo potete provare a fare come un algoritmo possibile. E si basa essenzialmente sulle stringhe e sui cicli while. Noi adesso ne vediamo una soluzione più semplice, perché per fortuna c'è già una funzione che fa questa operazione. Rispondo però solo alle due domande che ci sono sulla chat, la prima è Maddalina che mi chiede, ma perché hai messo due due punti qua? E perché se il comando è i grande, Aldo, Giovanni Giacomo, il comando di 0 è uguale a i, ma poi la parte di stringa che devo elaborare per restare i nomi da inserire nella rubrica inizia qua, inizia dal terzo carattere. Ok? Quindi non è dal terzo comando, ma dal terzo carattere di questo singolo comando. Andrea mi dice, ma perché tu mi hai fatto l'esempio in cui uso i grande per inserire un nome solo? Se hai un nome solo puoi usare la i minuscola come comando. Sì, però mi stai vietando di usare la i maiuscola per inserire un comando da solo? A me sembra lecito, no? Anche se ho un nome solo da inserire lo posso inserire o con la i minuscola o con la i maiuscola. Se ho più di un nome per forza devo usare la i maiuscola, punto. Non vedo perché vietarlo, solo perché mi fa comodo. Un utente si aspetta di poterlo fare. Allora, per fare in breve, quello che noi stiamo cercando di fare qua è l'operazione inversa rispetto alla join. Nella join avevamo una lista di stringhe e volevamo compattarla in unica stringa separata in un certo modo. Qui invece abbiamo già una lista di stringhe separate in un certo modo, ma vogliamo questa volta spezzare questa unica stringa in tante stringhe piccoline. E questo si può fare, esiste il metodo che si chiama split, che è esattamente il contrario di join. Il metodo split, qui ci sono alcuni esempi che cercano di farci capire che cosa fa. Prende una stringa che contiene già dei separatori, quindi sarebbe la nostra sequenza di nomi, punto split e l'argomento dello split è il delimitatore, il separatore. Ritorna, restituisce una lista delle parole nella stringa usando sep, cioè il parametro, il primo parametro, come stringa di delimitazione. Quindi, se c'è una virgola, tutte le volte che c'è una virgola, la lista separa le stringhe. Quindi, se io usassi, andiamo a prendere il nostro esempio, prendo la console, che la sequenza fosse una stringa che è, sto scrivendo qua in basso, Aldo, senza spazi, Giovanni, Giacomo, ho questa sequenza, qua sotto, e quindi se facessi sequenza, punto split, indicando che voglio splittare sulla virgola, mi restituisce già automaticamente una lista di stringhe, e queste stringhe sono effettivamente i singoli pezzi del nome. E quindi questi singoli pezzi del nome li possiamo tranquillamente aggiungere alla rubrica, aggiungendo una lista a un'altra lista. Ok? Quindi ho la sequenza, che è una stringa, che all'interno contiene i separatori. L'esempio invece in cui ho un nome solo, e quindi cosa capita se chiamo split su una stringa che contiene un nome solo? Semplicemente mi restituisce, quindi il caso in cui la I maiuscola viene usata con un nome solo come caso particolare, la split non se ne preoccupa, dice vabbè, non c'è un separatore, e allora ci sarà una lista che contiene un elemento solo. Se invece c'è il separatore, Gianni Gianni mi darà due elementi della stessa lista, una lista con due elementi. Allora, usando questa funzione split, noi possiamo evitare di implementarci questo algoritmo, e a questo punto abbiamo semplicemente la lista dei nomi, che l'ottengo dalla sequenza di nomi, punto, splitta sulle virgole. Ok? Questa lista dei nomi la dobbiamo aggiungere alla mia rubrica. Quindi come faccio ad aggiungere, non è un nome solo, adesso è una lista che contiene dei nomi. Allora, il modo più semplice è quello di usare il metodo extend rubrica, punto extend lista nomi. Un altro modo, lo metto qua come commento, sarebbe scrivere rubrica uguale rubrica, più lista nomi. Extend e concatenazione, alla fine fanno lo stesso lavoro. C'è una domanda di Fabio, che mi chiede nella chat, se potremmo usare lo strip anche per il comando i, in modo che se l'utente dovesse inserire spazio aldo, mi conti solamente aldo. La i è sparita però nel tuo esempio, quindi come fa lui a sapere? Ah sì, ho capito. Effettivamente ha senso, quello che state dicendo è, nel caso della i, lui prende il nome semplicemente partendo dal terzo carattere. Se però l'utente avesse scritto i, spazio, 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 aldo, e poi ancora spazio, spazio in fondo, perché così si è addormentato sullo spazio oppure è passato da lì il gatto, allora questi spazi verrebbero ovviamente inseriti nella stringa. Quindi lui ci suggerisce, e io sono d'accordo, di fare in modo che se ci sono degli spazi aggiuntivi, eccessivi ai lati del nome, questi li cancelliamo. Se c'è uno spazio all'interno del nome, già un spazio franco, già un franco, quello viene conservato ovviamente, perché il strip va solamente a buttare via i nomi esterni. Quindi vediamo un po' come funziona adesso con tutte queste modifiche. non la console, scusatemi. Stop il programma e lo faccio ripartire. Allora, la insert di Aldo funziona come funzionava sempre. La insert di tanti spazi, anche mettiamo gli spazi davanti alla i. Un po' di spazi, i, Giovanni, un po' di spazi, esageriamo, dovrebbe essere preso in modo pulito, infatti gli spazi li abbiamo tolti sia intorno al comando che intorno al nome. Va bene. La i grande. I grande, aggiungiamo qui, qua, qua e vediamo cosa succede. Faccio stampa. Aldo, Giovanni, qui, qua, qua. Li ho inseriti effettivamente come tre elementi nuovi. Io la i grande la posso fare anche con un nome solo. Mi manca, chi manca, Giacomo. E me lo aggiunge tranquillamente in fondo. L'unica cosa che devo fare attenzione è che se uno inserisce qui, qua, qua, con degli spazi, qui ho messo qui, qua, qua, di nuovo, li sto aggiungendo di nuovo, farò stesso, farò dei duplicati, però il problema è che ci ho messo uno spazio davanti a qua, uno spazio davanti a qua. E infatti vedete che la stampa viene un po' strana perché questo spazio lui lo considera come se fosse parte del nome. E quindi dovremmo, cioè come dire, strippare via gli spazi anche dei singoli nomi che aggiungiamo. No? Per avere pulizia anche su questo. E come possiamo farlo? Torniamo giù nel codice dove lo inserisce. Noi abbiamo fatto una cosa minimale. Abbiamo usato la split per farci separare la stringa nei vari nomi e questi nomi li abbiamo schiaffati di brutto dentro la nostra rubrica. In realtà, prima di farlo, possiamo fare un minimo di pulizia dei nomi, eventuali spazi, intorno ai nomi. Allora, la virgola l'ho già tolta perché la split la toglie già. Ok? Allora, faccio un ciclo for i in range lang lista nomi e farò lista nomi di uguale lista nomi di punto strip. Quindi, questa lista di nomi che ho appena ottenuto dalla mia split scusate che split e strip sono nomi che si confondono, ma si chiama così quindi ho splittato la stringa e poi sostituisco ciascuno dei nomi che ho appena letto con la loro versione priva di spazi priva di spazi, diciamo così, iniziali e finali. E poi l'extended della rubrica lo farò con questa lista che è stata già, diciamo così, rimaneggiata e è stata ripulita. Ok? Mattia mi dice, se l'utente scrivesse ad esempio qui punto, qua punto e virgola qua poiché non sono separati da una virgola ma da un punto e virgola o da un punto li considera, questi punti e virgola e punti li considera come parte del nome. non funzionerebbe mettere una cosa di questo genere mettere uno split con più di un carattere perché lui, no, purtroppo potremmo immaginarci no, ma se il separatore non è una virgola ma può anche essere un punto o anche essere un punto e virgola metto lo split, metto nell'argomento lo split tutti i caratteri purtroppo non funziona così perché lo split considera questa come una stringa unica e quindi cercherebbe esattamente un separatore fatto da questi tre caratteri così in sequenza così come e quindi non riesco a farlo se un separatore fosse ignoto fosse un separatore tra più separatori possibili la prima cosa che mi viene in mente è fare un replace sostituisco un punto con la virgola sostituisco il punto e virgola con la virgola e quindi faccio uso dei replace sulle stringhe sostituisco i caratteri con altri e poi finalmente faccio lo split però attenzione, noi non è che dobbiamo inventarci le cose il testo ci diceva che la i grande serviva per inserire un gruppo di nomi separati da virgola se l'utente questa mattina si è svegliato storto li separa con un punto esclamativo peggio per lui il mio programma deve fare questa cosa quindi come sempre noi abbiamo delle funzioni di base come in questo caso la split che funziona in un certo modo se io conosco il carattere fa già tutto il lavoro da sola se voglio fare qualcosa di diverso è chiaro che non potrò usare così com'è la funzione di libreria dovrò magari modificare fare un giro un pochino più lontano quindi magari converto prima i caratteri poi sulla split oppure come dice Kumari c'è sempre la possibilità di farmi il ciclo a mano come avevo indicato qua questo funziona sempre nel senso che io a questo punto vado a cercare il carattere che voglio se ci fossero anche sette caratteri possibili li cerco tutti e vado a vedere il primo che incontro e poi divido la stringa così cioè posso sempre farmi le operazioni andando a lavorare direttamente sulla stringa e quindi posso inventare il criterio che preferisco se però il criterio è un criterio diciamo così comune normale se posso usare il termine normale è molto probabile che ci sia già una funzione che lo implementa ma se la mia esigenza è diversa ovviamente me la dovrò fare come si dice a mano nel senso che non basandomi esclusivamente su ciò che fa una funzione di libreria ok ci convince la I grande passiamo al comando successivo però questo algoritmo qua vi consiglio di farlo come prova di esercizio provate a farlo anche a parte anche non dentro questo programmone ma qualche cosa che prenda una stringa come questa qui che abbiamo inserito prima e costruisca una lista di stringhe che costruiscono i singoli nomi e poi se a quel punto potete provare a giocare con i separatori se c'è lo spazio di troppo se non c'è vedete che si complica parecchio però è così purtroppo ok allora passiamo al comando successivo riusciamo ancora a fare due o tre magari sono più facili di cancella il nome specificato se esiste allora questo in realtà è un po' ambiguo nel senso che cancella un nome vabbè dobbiamo cercare una rubrica se c'è quel nome e se c'è lo cancello se non c'è non faccio nulla dirò guarda quel nome non c'era è ambiguo solamente nel momento in cui questo nome dovesse comparire più di una volta se per caso quel nome comparisse più di una volta nella rubrica cosa devo fare lo cancello ogni volta o cancello solamente il primo o l'ultimo che ho trovato ok questo dobbiamo specificarlo in qualche modo la cosa migliore è di dire ecco il migliore nel senso di migliore per me cioè più semplice da fare in caso di duplicati cancella il primo che può anche aver senso no? voi avete inserito tre volte un nome o due volte un nome per sbaglio allora cancelliamo uno dei due ehm caso di duplicati cancella il primo allora di piccolo nome aggiungiamo la clausola al nostro programma else if comando di zero è una di minuscola allora faccio implemento il comando delete il nome da cancellare sarà nome uguale comando di ormai lo sappiamo l'abbiamo già fatto due due punti punto split strip punto strip quindi tolgo gli spazi e a questo punto ho il nome che deve essere cancellato come faccio a cancellarlo? beh la cosa più semplice è usare il metodo remove quindi rubrica punto remove nome andiamo a leggere bene la documentazione di remove cosa ci dice? allora prendiamo il browser che ci dice quando arriverà perché andiamo adesso subito allora facciamo così string remove volevo trovare la documentazione ufficiale anziché i mille siti che ne parlano per vedere purtroppo non mi fa vedere la documentazione no c'è una documentazione molto molto stringata vabbè lo dico parole quando quando chiamano metodo remove va a modificare la lista cercando questo nome e eliminandolo direttamente ok ciò che non so perché la documentazione qua non me lo sta dicendo è che cosa succede se questo nome non esiste oppure se esiste più di una volta però lo possiamo sperimentare possiamo provarlo ok proviamolo magari nella console noi abbiamo una lista la rubrica r chiamiamola r per brevità uguale aldo virgola a r uguale uguale vabbè facciamo le cose più semplici a b di nuovo a e c cosa vuoi così r uguale a b a c ok allora cosa succede se faccio r.remove di b questa è quella facile dovrei trovare cancellare la b che è quella in seconda posizione e infatti mi rimane che r è a a c adesso cosa faccio se provo a rimuovere qualcosa che non esiste quindi r.remove di z mi da un errore quindi ricordiamocelo quindi devo evitarlo non lo posso fare se invece voglio fare il remove di un elemento che c'è già ma doppio in questo caso come la a fa vedere cosa mi da mi ha cancellato una sola delle due ma l'altra è rimasta ok quindi ciò che mi sta dicendo è ciò che abbiamo scoperto con due prove è che il metodo remove funziona solo se il nome esiste nella stringa altrimenti mi da un errore quindi dovrò prima preventivamente controllare vai via adesso come faccio a toglierti devo preventivamente controllare che il nome esista quindi posso farlo solamente se nome in rubrica allora lo posso cancellare ok altrimenti potrò dire s print il nome non è presente in modo che possiamo stampare un messaggio d'errore diciamo così gentile ordinato anziché bloccare il programma con un errore e bloccare il programma mi farebbe perdere tra l'altro tutti i dati che ho inserito questo è un modo l'altro modo è quello di trovare la posizione del nome all'interno della stringa e poi eliminare l'elemento che si trova in quella posizione questo mi permette anche magari di avere dei criteri diversi da dire il primo riguardo la posizione cioè magari voglio cancellare l'ultimo voglio cancellare il secondo e cose di questo genere allora commento solo questo messaggio che mi ha scritto adesso Alexis in cui lui dice ma se io volessi ad esempio cambio ovviamente la specifica fare una cosa di questo genere per cancellarli tutti qui non sarebbe A ma sarebbe nome ovviamente qua funzionerebbe allora qui c'è un esempio di un'operazione che è pericolosa pericolosa nel senso che bisogna poi capire bene se funziona o no perché noi abbiamo un ciclo while in cui abbiamo una variabile che itera su una lista dentro questo ciclo in cui sto iterando in questa lista sto modificando la lista stessa perché io faccio un remove della lista rubrica dentro un ciclo e questo ciclo viene eseguito allora immaginate se lo voleste fare voi come lo fareste funzionare la rubrica contiene cinque nomi allora questo ciclo while dovrebbe andare avanti di cinque posizioni però man mano che vai avanti tu hai tolto degli elementi di mezzo e quindi questo ciclo come fa a lavorare va andrà avanti cinque volte ma gli elementi sono finiti perché li hai cancellati oppure va avanti un numero di volte inferiore oppure se lui è il secondo elemento e tu glielo cancelli non è che lui passa al terzo che in realtà era il vecchio quarto e il vecchio terzo te lo sei perso quindi questo è sempre molto delicato e cercare sempre di evitarlo quindi non ti do la risposta si può fare o non si può fare la risposta che ti do è evitiamo sempre di andare a modificare una lista o in generale una struttura dati dentro un ciclo in cui si itera su quella stessa lista quindi voi immaginate che quando sono dentro un ciclo in cui itero su rubrica dentro rubrica non la devo modificare ok altrimenti capire come funziona è abbastanza si può fare chiaramente ma è abbastanza delicato e per poche variazioni il programma si comporta in modo diverso quindi è meglio cercare di evitarlo ok piuttosto si si col while dovrebbe funzionare abbastanza forse col for invece non funzionerebbe perché il for va a vedere prima le quanti tirazioni fare mentre il while ogni volta va a valutare la condizione in quindi in questo caso si può fare in questo caso funzionerebbe però facciamo sempre attenzione quando sto per modificare qualcosa dentro un ciclo cosa succede all'interazione successiva se la condizione è rivalutata oppure no il codice che ha scritto annunzio lo sostituisco qua dove è andato a finire così ha senso si può fare era quello che stavamo dicendo in questo caso abbiamo usato remove per cancellare il nome altrimenti uno potrebbe usare la funzione pop adesso me lo riscrivo sopra quindi uso remove innanzitutto devo risicare che il nome ci sia quindi uso remove oppure trovo la posizione che altro non è che rubrica punto index di nome e poi cancello la posizione corrispondente usando pop specificando la posizione in cui lo voglio cancellare quindi questa è esattamente la stessa cosa che hai scritto tu quindi o una o l'altra di queste due alternative sono abbastanza equivalenti la cosa di index carina è che il metodo index vedete che ha più parametri quindi il valore deve cercare ma posso anche specificare un parametro opzionale inizio e fine quindi potrei decidere se mi servisse cercami un nome guardando la index a partire tra la quinta e l'ottava posizione non necessariamente dall'inizio alla fine della stringa così come esiste anche un'altra funzione un altro metodo che si chiama rindex non si chiama non esiste mi sembrava di sì no non mi ricordavo ok niente come non detto ricordavo che ci sia una funzione per cercare dal fondo ma invece non c'è ok quindi in questo caso prendiamo una delle due e questo dovrebbe funzionare per la cancellazione verifichiamola allora andiamo in run ripartiamo col programma inserisci print ok inseriamo di nuovo Aldo e di nuovo Giacomo magari due volte e poi possiamo cancellare Giacomo quindi dovrebbe cancellarmi questo di mezzo e lasciarmi il resto quindi alla fine mi aspetto di avere Aldo Giovanni Aldo Giacomo vediamo se è vero non P scusa D per cancella Giacomo P eh P Aldo Giovanni Aldo Giacomo ok ha cancellato ha cancellato correttamente il nome di mezzo se io invece cercassi di cancellare un nome che non esiste mi dice che il nome non è presente ok allora vedo che qualcuno sta scrivendo quindi aspettiamo le domande Giusy ha il microfono aperto quindi se vuoi parlare ben volentieri ma altrimenti controllo non hai detto nulla di compromettente tranquilla allora Andrea cosa mi fa ah Andrea Andrea diciamo così ha provato a cogliere la mia tentativa di di cercare il nome da cancella dove è finita da lì di cercare il nome dal fondo anziché dall'inizio e lui dice io uso la rubrica al contrario e poi calcolo index si va bene però attenzione che poi il valore lo devi lo devi ribaltare perché funzionerebbe scriviamolo qua qua sotto faccio copia e incolla sul codice dice se vuoi cercare dal fondo in modo da cancellare l'ultimo nome potrei fare una cosa di questo genere allora parto dal fondo arrivo fino a meno uno andandolo indietro va bene quindi sto invertendo la stringa in realtà basterebbe fare semplicemente due punti due punti meno uno cioè rubrica due punti due punti meno uno mi da la lista al contrario partendo dall'ultimo elemento tornando al primo e poi cerca il nome in questa stringa rovesciata quindi il primo nome che troverà in questa stringa rovesciata sarà l'ultimo nome della stringa di partenza attenzione che però la posizione è calcolata rispetto alla stringa rovesciata quindi se lui ti dice che la posizione è 3 in realtà tu devi prendere l'elemento a tre posizioni dal fondo non dall'inizio ok quindi in realtà sì però devo poi correggere la posizione ricavarmi la posizione rispetto alla rubrica di partenza che dovrebbe essere qualcosa tipo len rubrica meno uno scusa meno uno fuori da qua meno pos quindi se vale se lui mi dice zero cioè il primo elemento della stringa rovesciata per me è len meno uno cioè l'ultimo elemento della stringa diritta se lui mi dice tre per me è che tre quindi sarebbe il quarto elemento per me è len meno quattro perché len meno uno le meno due le meno tre le meno quattro il quarto elemento è dal fondo ok quindi questo funziona però devo fare attenzione al valore che mi ritorna quindi questo qua cerca prima occorrenza la prima occorrenza dall'inizio e invece se voglio cercare oppure cerco la prima occorrenza dal fondo e poi ovviamente in entrambi i casi farò il pop per cancellare quella posizione ok vediamo se c'è qualcosa che riusciamo ancora a infilare nei cinque minuti che sono rimasti se l'esercizio successivo beh ordine rubrica in ordine alfabetico è banale quindi la s la possiamo sicuramente fare quindi elif comando di zero uguale a s minuscola rubrica punto sort basta non ho altro da fare no? era fin stupido da chiedere mentre invece il comando subito dopo subito dopo due ricerca se ci sono dei nomi duplicati è un pochino più complicato questo ovviamente non abbiamo tempo di farlo magari però vi invito a provarci l'if comando di zero fosse una due devo trovare duplicati se ci sono duplicati se ci sono nomi duplicati questo significa andare a cercare no? dato un nome dato una posizione del nome della rubrica se ci si è lo stesso nome compare in altre posizioni della rubrica stessa quindi vi accendo solo che ovviamente ci sarà poi probabilmente due cicli annidati uno dentro l'altro per riuscire a scoprire se esistono dei nomi che compaiono lo stesso nome in due posizioni diverse i e j della stessa lista no? questo qua diciamo così da fare è l'unico che richiede un pochino di algoritmo in più gli altri due punti che sono il più e il meno di fatto sono una variante della cancellazione nel senso che devo trovare dove si trova il nome quindi usando il pos e poi a quel punto devo scambiare tra di loro due elementi lo scambio gli elementi è anche un'altra cosa che si può fare manualmente oppure c'è la scorcia in python che a questo punto vedremo la settimana prossima ok? la settimana prossima sicuramente finiamo questo esercizio oltre a vedere argomenti un pochino più complicati come le liste annidate quindi le tabelle ma almeno questo esercizio questo punto sulla ricerca se ci sono dei nomi duplicati mi piacerebbe che ci pensaste e provaste a farlo al volo rispondo a Damiano se è normale che connessi scrivo il comando i con spazio di Aldo mi salvo gli spazi tra il comando e il nome anche se abbiamo messo il comando .strip si è normale infatti io perché strip cancella solamente nel tuo esempio gli spazi che sarebbero prima della i e gli spazi che sarebbero dopo la o di Aldo ma gli spazi in mezzo la strip non li tocca non li cancella infatti per risolvere questo problema noi avevamo messo questo alla riga 31 cioè dopo che ho estratto il pezzo di stringa che segue il comando su quel pezzettino lì faccio un'altra volta strip per andare a cancellare gli spazi che sono rimasti dopo aver tolto la i davanti praticamente quindi solo con questo strip non mi cancella gli spazi multipli interni ok io a questo punto se non ci sono altre domande mi fermerei su questo esercizio ovviamente vi pubblico subito il file vi chiedo di provare a pensare al punto 2 sono solo tre istruzioni in tutto però forse è la prima volta che lo facciamo quindi ne approfittiamo per rifletterci su e per il resto ci vediamo come al solito martedì nella parte di laboratorio che si fa normalmente in aula è la prima ora online e mercoledì vi ricordo ancora una volta faranno le tre ore online anziché le tre ore in aula per via dell'inaugurazione dell'anno accademico ok non vedo comparire altre domande quindi vi ringrazio a tutti buon appetito e ci vediamo la prossima settimana ciao arrivederci ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.